Pronti per un eventuale ripescaggio in Serie C, decisi a ripianare le perdite di esercizio per l'annata 2019-2020, quasi fisiologiche per un club nato nella scorsa estate e in corso di consolidamento finanziario. Ventata di moderato ottimismo dopo il Consiglio di Amministrazione Fiume del Calcio Foggia 1920, convocato nella giornata di mercoledì 24 giugno e passato per un aggiornamento nella data di giovedì, a fissare le tappe e lo stato delle cose con un comunicato breve quanto chiaro e lo stesso club rosso-nero. Il Calcio Foggia 1920, si legge, comunica di aver ulteriormente deciso di approvare in previsione della Serie C il budget necessario per ottemperare agli obblighi di legge, deliberando di stimare le spese necessarie, incluse il ritiro e quanto necessario per sostenere la fase di precampionato, il tutto per un importo iniziale di 800.000 euro. Tra gli obblighi citati dalla proprietà ci sono l'iscrizione del club, il versamento del contributo a fondo perduto e la costituzione della fideiussione richiesta dalla Lega Pro, a sì che il Foggia, secondo a meno uno dal bitonto al momento dello stop nel girone H di Serie D per l'emergenza coronavirus e settima squadra tra i nove gironi del massimo campionato dilettantistico per punti fatti in stagione, è determinato a percorrere. Stessa linea per quanto riguarda il ripianamento della perdita di bilancio, con il necessario versamento di circa 600.000 euro che avverrà, come da nota, secondo le modalità previste dalla legge che scaturirà dall'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020, data che segnerà la chiusura ufficiale dell'esercizio 2019-2020. Il prossimo passo farà rima con chiarezza, quella che dopo lo sfumato ingresso in società dell'imprenditore Raffaello Follieri sembra ancora mancare tra i vertici alla proprietà del club. La tensione tra il presidente Roberto Felle, che è l'amministratore delegato Davide Pelusi da una parte, e Maria Assunta Pintus, socia al 50% della Corporate Investments Group, la società che detiene l'80% delle quote societarie, persiste. Ma questa è un'altra partita ancora tutta da giocare.